e salve a tutti ragazzi da pierdark knight 91 ci ritroviamo in wwe 2k 16 oggi faremo un match molto importante per cercare di continuare a vincere affronteremo neville adesso tuffiamoci subito nel match e vediamo se pierdark knight riuscirà a battere questo wrestler ed eccoci qui iniziato il match partiamo sempre correndo e ammazzandolo di botte il nostro avversario abbiamo sempre al nostro fianco page allora siamo partiti bene 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 bottona in faccia incredibile neville parte malissimo si rialza adesso lo prendiamo che cacchio fai riusciamo a contraattaccare un altro calcione un altro pugno ecco vai 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 pier vai pier ecco ci porta le corde niente troppo presto no no ecco allora siamo riusciti ad uscire ecco che esce lo prendiamo bene lo alziamo no no sta condando l'arbitro nel frattempo cacchio per fare così con la mano non ho schiacciato r2 ok siamo riusciti ad uscire noto che è molto più semplice contraattaccare contro questo wrestler che conteggio sta l'arbitro oh 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 ok 6 muoviti pier muoviti 7 siamo riusciti a salire cazzottone in faccia neville ok questa è una mossa che mi piace tantissimo ok ok mamma mia solo una stella e mezza mossa verità eh riprendiamo un po di energia perché neville è carico botta dietro alla schiena e page applaude sta salendo neville noi lo prendiamo da dietro lo sbattiamo se neville o che è successo che è successo attenzione vidiata succede qualcosa pier si gira guarda lì a chi cacchio guarda neville è dietro attenzione cosa sta succedendo cosa è successo è successo qualcosa è successo qualcosa ragazzi molto probabilmente qualcuno ha distratto pier però riusciamo a contraattaccare ad attaccarlo a prenderlo a sbatterlo al suolo non c'è nessuno che ci possa fermare neville cammina come un cagnolino non ce la fa più neville ha ancora una botta dietro la schiena è lì lo prendiamo rincorsa e mamma mia culo in testa e neville non ce la fa più bene così mamma mia che bel bel incontro stiamo facendo oh non andare a vuoto non incominciare ecco come sempre attenzione ci ha sbattuto lì oh 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 neville ci mette lì oh schiaffone in faccia neville sale adesso volerò come un maiale come volano i maiali ragazzi non lo so mamma mia fuori dal ring ci ha fatto malissimo ci ha fatto malissimo pier sembra una stella ancorata alla sabbia niente non riesco più a contraattaccare maledetti mamma mia alza pier alzati pier che ce la puoi fare attenzione oh caro neville prenditi questa prenditi questa carichiamolo saliamo riprendiamo energia e neville neville non ce la farai non ce la farai colpiamo l'arbitro colpiamo l'arbitro si mette avanti come una zucchina ammuffita è normale caro amico mio non puoi metterti avanti neville ancora il cagnolino per neville si rialza e noi gli diamo una botta dietro la schiena un altro pugno al fianco un altro ancora lo alziamo e ci contraattacca neville non ci sta neville ci ributta lì alle cordeo schiviamo e poi lo buttiamo lo buttiamo a terra mamma mia bravo pier scatenati pier scatenati pier è il momento lo dobbiamo ammazzare lo dobbiamo ammazzare prendilo ok preso vediamo se va bene questa mossa si va bene non ce la fa più neville aspetterei ancora qualche minuto prima di andare a chiudere ok un cazzottone dritto sul naso poi uno sulla fronte uno sul fianco lo riprendiamo lo rialziamo mamma mia proviamo a chiudere proviamo a chiudere mannaggia tocca le corde l'arbitro poi si addormenta cazzottone no calcio dietro la schiena lo prendiamo facciamo un po di strizzacollo e ma ci contraattacca attenzione eccolo lì aia ok riusciamo riusciamo ancora a contraattaccare ancora un cazzotto ancora un altro bella sta mossa vediamo se riusciamo a fare la mossa finale caricata no è andato a vuoto non so per quale motivo si è riprendiamo lo rialziamo tre stelle mossa varietà è fatta io direi che è fatta mossa finale caricata vediamo se stavolta va a buon fine si alza neville e ci contraattacca non è finita qui sembrava oramai terminato questo match invece neville ecco che ci fa questa mossa e anche questa e prova a darci problemi adesso prova pure a schierare attenzione uno che cosa è successo cosa è successo sullo schieramento ragazzi la barra non andava veloce non potevo cliccare x non ci credo abbiamo perso per non so quale motivo forse la botta in testa non so però davvero non riesco a capire il motivo perché non potevo uscire dallo schieramento non ci credo neville ci batte ci batte neville maledetto ma non è finita qui oggi ce ne facciamo due d'incontri andremo a fare l'evento superstar di nuovo con kevin owens attenzione andiamo nel match eccoci qui di nuovo contro kevin owens davvero non ho spiegazioni per capire perché sullo schieramento non potevo davvero cercare di contraattaccare riuscire ad uscire da quel da quella morsa davvero spero che qualcuno di voi mi faccia capire cosa è successo nel frattempo comunque abbiamo fatto un bellissimo incontro con contro quel maledetto neville allora vediamo qui invece siamo partiti abbastanza bene abbiamo solo subito qualche cazzottino da maledetto kevin owens che adesso ci farà male eccolo qui mamma mia questo è maledetto questo è maledetto siamo riusciti ad uscire vediamo se abbiamo fortuna come nel match che abbiamo già fatto contro kevin owens niente è tosto questo è tosto altro che neville esce alzati pier alzati muoviti pier alzati ecco attenzione a cagare vai vattene sopra vattene sopra maledetto strizzacollo ci ha fatto già tanto male difficile difficile questo match davvero mi ero abituato alla facilità del match contro neville e l'abbiamo pure persa eh caro amico no disgraziato sale su siamo a sette sale pier mannaggia oh ci aspetta lì al barco ci va a fare questa mossa già chiude già chiude uno ok page mi devi risalvare questa volta ok preso prendilo ok dai proviamo a cambiare queste sorti del match niente questo contraattacca come un maiale come contraattacca il maiale oggi mi viene sempre l'espressione sempre di dire maiale non so perché dai alzalo alzalo sto ciacciottone alzalo riprendi energia forza forza che lo uccidiamo prendilo in faccia oh il campione della nexty deve andare a tappeto è lì a terra che non ce la fa più sta pensando ai vuistel sta pensando alla matriciana sta pensato a tutto e invece ci ha dato un cazzottone e ci ha ammazzato ci ha buttato una bistecca fiorentina nei denti che brutta fine ci alza come ecco adesso già siamo brutti siamo un mostro incredibile poi pure i cazzottoni in faccia niente non riesco a contraattaccare che cacchio gioco a fare owens è stronzo ragazzi scusate l'espressione ma owens è proprio stronzo ci ha ucciso e prova a chiudere di nuovo uno non ce la fai così non ce la fai devi aspettare owens oh usciamo a contraattaccare questa è già una cosa buona un cazzottone uscito il secondo anche il terzo anche vediamo se riusciamo ad alzarlo dai ok mi sa che si è fatto male più pierre facendo quella mossa 100 kg su un ginocchio non è una cosa normale vediamo se riusciamo a fare questa mossa ok ok va bene calma calma che ce la facciamo fallo rialzare e lo riprendiamo calcione dietro la schiena lo riprendiamo lo giriamo lo rialziamo lo sbattiamo e adesso rialzati che ti riprendo rialzati che ti riprendo alzati ciasciottone alzati ok preso dai 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 bene ancora una volta aspettiamo che si alza calcione e poi facciamo la mossa come sempre vediamo che succede cazzo no ok però va bene va bene va bene vai con la mossa bene così risale sopra Kevin Owens visto che è un materasso si butta sopra allora siamo riusciti a pareggiare per il momento ma tutto può cambiare cazzottone dietro la schiena uuuuh cadi giù amico mio cadi giù no la mossa finale caricata la faccio sopra non sono cretino bene bravo Pierre saliamo saliamo aspettiamolo aspettiamolo dai Pierre sali sei coraggio ok preso preso ancora preso ancora bene 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 ragazzi va bene si vola Kevin Owens ok mossa finale caricata speriamo bene nel nome del padre del figlio e del Kevin Owens santole ciao ciao schieriamo schieriamo vediamo che succede uno dai veloce due uuu quasi 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 tre stelle e mezza mossa verità va bene così dai non disperare non disperare ce la facciamo dai che ce la facciamo colpo dietro la schiena come sempre dove vai cosa fai non incominciare a fare cazzate lo prende uff sta andando bene sta andando bene ma facciamo le corna è a terra non ce la fa più c'è ciottone si m'hai detto eccolo qui ci blocca il pugno e ci do lo schiaffo aia aia no 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 questa mossa è stronza aah ecco la schiena per il momento non esiste più prova a chiudere uno non ce la fai qui non ce la fai alzati pierre dai dai botta in faccia kevin owens amico mio adesso schiero ah mi sa che tocca le corde vediamo muoviti uno due non ce la facciamo alzati pierre alzati 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 muoviti per favore alzati che se questo incomincia ad attaccare sono cacchi ecco madonna mia santa ecco la mossa finale caricata per kevin owens aiuto aiuto no alleluia alleluia boom siamo morti non ce la faremo mai uno due tre ce l'abbiamo fatta che culo che culo ma che dici stai zitto stai zitto page maledetta aiutami oh non ci aiuta non ci aiuta dai fermati fermati non andare a vuoto maledetto maledetto è un ciacciottone come fai a non prenderlo oh bene così prendilo e ci contrattacca adesso dipende tutto da queste mosse dipende tutto da queste mosse il match si decide adesso ragazzi prendilo prendilo mamma mia oh ci ho spaccato la faccia ci ho spaccato la faccia chiudiamo vediamo che succede me l'hai spaccata tu una volta adesso te l'ho spaccata io no riesce ad uscire dallo schieramento alzati madonna perché fai così sei cretino sei masochista dietro la schiena bene saliamo sulle corde saliamo sulle corde vai muoviti muoviti wow no ecco vabbè se provi a schierare ti ammazzo aia che c'ha le mani quello morbo di parkinson per parkinson per kevin owens non capisco io ho fatto le mosse e io sto per crepare non ho capito sta cosa ecco è finita adesso o ci salva page o possiamo salutare l'incontro attenzione va a chiudere dai ecco un'altra volta sta cosa come faccio come faccio se mi se non mi fai cliccare x ragazzi la barra va lenta se tornate indietro potete notare che la barra va lentissima fino a quando va al posto dove noi possiamo uscire dallo schieramento e ogni volta che l'arbitro batte ritorna indietro questa barra e non posso uscire dallo schieramento due match persi ragazzi va bene così questo episodio di ww2k16 finisce qui non riusciamo più a vincere nonostante abbiamo spaccato la faccia a quel maledetto è andato a vincere page non ci ha aiutato va bene così ragazzi lasciate un bel like sempre per supportare questo fantastico video e ciao a tutti da pierdark knight 91 di Grazie a tutti.